La Ministra Santanché dall'inizio conosce la posizione, dall'inizio conosce la situazione e ha mentito al Parlamento innanzitutto, questo chiariamolo, perché addirittura ha taciuto quelli che erano i reali incarichi nell'ambito delle varie società e come concretamente ha svolto, ha diretto, ha coordinato e amministrato le stesse e secondo ovviamente era già venuto fuori le dichrazioni dei dipendenti, addirittura noi in conferenza stampa sono venuti a parlare anche al Senato, i dipendenti hanno già detto tutto, quindi non è che dobbiamo fare processi in pubblico, perché i reati vanno accertati, verificati se ci sono e accertati ovviamente dall'autorità giudiziaria e con tutte le garanzie per indagati o imputati se diventano imputati, ma c'è un altro problema, qui stiamo parlando di un ministro, stiamo parlando di una responsabilità politica, Giorgia Meloni che cosa deve aspettare? Prenda, chiami la Sant'Anché, lo devo fare dall'inizio, gli abbiamo detto, la chiami, si faccia dare le carte e si assume la responsabilità politica, oggi si concretizza l'ipotesi di truffa aggravata ai danni dell'Ips per i fondi Covid a 0 ore, ebbene Giorgia Meloni era quella che durante il Covid ci attaccava in tutti i modi, vi ricordate? In tutti i modi, per qualsiasi attività, iniziativa gestionale per proteggere il Paese e adesso di fronte a una ministra e l'ipotesi di truffa aggravata per la cassa Covid a 0 ore che cosa fa? Sta zitta? Ci aspettiamo, vediamo cosa deve vedere, si faccia dare le carte e si assume la responsabilità politica, oggi subito, non aspetti che faccia nel loro corso i progetti penali, quella è responsabilità penale, scusi, c'è la responsabilità politica che innanzitutto ingompa sul ministro stesso e sul Presidente del Consiglio. Senta, lunedì voterete la sfiducia vice premio a Salvini e alla Camera? Se ce lo consentiranno sì, se ce lo consentiranno, se porteranno e non metteranno, perché vedo che Giorgia Meloni continua a mettere la testa sotto la giacca, di fronte al caso Antanchetti, di fronte al caso anche immagino di Salvini e sicuramente voteremo la sfiducia, ovviamente sentiremo che cosa andrà a dire Salvini e i diretti interessati, ma di fronte ai fatti che sono emersi, anche circostanziati, ai dettagli che sono emersi su quell'accordo fatto col Partito Russo non c'è stata nessuna reale smentita e se i fatti sono quelli e quindi il contratto, l'accordo è quello che è stato esibito, io credo che si debba dimettere.